Presentato all'Arena Piemonte il tascabile ritratti di sport piemontese, con gli interventi di grandi campioni che hanno reso importante a livello mondiale lo sport made in Piemonte. Roberto Bettega, una gloria bianconera, in questa festa dello sport, qual è il messaggio che vogliamo dare? Per uno che ha vissuto di sport il messaggio è quello che dovremmo aiutare i nostri ragazzi, la scuola dovrebbe aiutare i ragazzi a fare sport. Non parlo di sport professionistico ma di divertimento e anche di miglioramento del proprio fisico, però io credo che da quel punto di vista siamo ancora lacunosi. Emiliano Moretti, questa festa dello sport, un giovane atleta così che rappresenta una realtà così importante per il territorio piemontese come il Torino, qual è il senso di questa giornata per conto tuo? E' sempre bello positivo avere la possibilità di incontrare persone dello sport, anche di sport diversi da quello che pratico, quindi confrontarsi e capire quali sono le necessità e le possibilità di ognuno di noi, quindi è estremamente positivo confrontarsi in questo senso. Grazie.